Buongiorno, voi siete in train de dessiner, quale lungo? Francais, Andè, Italiano? Italiano. Italiano. Dove siamo qua? A Roma. Siamo a Roma, anche se non sembra, guardando fuori dalla finestra, ma siamo a Roma. A Roma. E lei cosa stava facendo? Lei fa design? Io sono uno degli artisti di Cicliart Lab, sì. E allora, mi spieghi un po' di cosa si tratta? Sì, madame. Va davanti alla bici. Certo. Allora, in questo caso il modello che stiamo presentando qui a Monaco è un modello chiamato Alchimia, per quanto riguarda la bicicletta. Poi abbiamo anche alcuni componenti, sia nel caso della bicicletta che delle componenti, si tratta di biciclette vinte a mano e poi ovviamente verniciate con una verniciatura industriale, in modo da rendere resistente il tutto, a qualsiasi tipo di condizione. Signora, mi scusi? Il ministro è un modello chiamato. Sono biciclette realizzate a mano in un numero limitato di modelli. Per le biciclette si tratta di 20 pezzi cada uno e sono biciclette che noi proponiamo, sia come biciclette, quindi come degli oggetti raffinati per goderseli, per andarci in giro, però anche come oggetti d'arte, quindi come un buon investimento. Questa bicicletta nel salone, in un salone sorprendente, pieno di bellissimi pezzi, è probabilmente l'unica bicicletta che fra un anno, dopo comprata, varrà più di quello che si è speso per comprarla. Perché è un'opera d'arte. Esatto. Lì ha fatto il design di quella bicicletta. Il design è stato curato da un nostro elemento che non è un artista, però è un tecnico anche delle biciclette, è una persona che soffova più dell'aspetto, diciamo, dei materiali. Di fatto ho visto che era lei che ha fatto il design che è sul muro. Ah, lei per design intende il disegno. Sì, il disegno. L'ho fatto io, no? Io pensavo il design come linea. Il design e il disegno. Hai ragione. Sì, no, qui ho fatto qualsiasi pezzo vede, è stato realizzato da me. Abbiamo scelto a questa fiera di portare i miei pezzi. Probabilmente alterneremo nelle varie fiere anche i pezzi degli altri, che sono bravissimi, peraltro, quindi non da meno. E voi siete basati a Roma? Siamo basati a Roma e per ora abbiamo esposto più che altro all'interno di gallerie d'arte e poi siamo stati selezionati dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e quindi abbiamo avuto l'onore di esporre il nostro materiale accanto a Picasso, a Modigliani, a Brac, cosa che per me è chiaramente commovente, quasi imbarazzante. Questo pezzo quanto costa? Questo pezzo costa 5.900 euro ed è un modello che abbiamo studiato in particolare per Monaco. Noi già abbiamo un modello che si chiama Alpinia, che è simile, ma questo è un modello un po' più ricco in termini di dettagli e in termini di decorazione. E allora, fra dieci anni quanto lo rivendo? Ah, fra dieci anni io spero che lo rivenda più di quello che io potrei sognare di guadagnare adesso, signora, e non lo escluderei affatto. E allora anche tutti questi pezzi vengono con dei disegni? Esatto, questi pezzi vengono prodotti in un numero leggermente superiore, nel senso che per i componenti di questo tipo noi arriviamo a 50 pezzi di tiratura. Per le biciclette solo 20. Per quanto riguarda le ruote, lei adesso vede delle ruote in bicicletta, però noi vediamo anche singolarmente le ruote. Ad alcuni clienti le comprano come oggetto d'arte. Ricorda Duchamp la ruota esposta? Ecco, abbiamo fatto più o meno scherzosamente un omaggio a Duchamp, in realtà abbiamo scoperto che è particolarmente gradito. D'altronde è un oggetto stravagante, se lei pensa, una ruota. Di solito noi creiamo delle skyline. Ah, ho capito. Abbiamo iniziato con le skyline di Roma e di Venezia e proseguiremo. Ah, che bello. Ed è questo l'unico modo di girare Roma stando fermi nello stesso posto, semplicemente facendo ruotare. Ah, che bello la ruota. Allora, la dita si chiama? Cicli Art Lab. E grazie. Grazie a lei e arrivederci. Lei mi dà...